ci troviamo in compagnia di fabrizio moro ciao e benvenuto mancano poche ore al tuo ritorno sul palco dell'ariston partirei chiedendo di come stai come stai vivendo questo momento beh abbastanza rilassato in questo momento sto concentrato però già so che comunque dieci minuti di salire sul palco una bomba d'oroggeria perché dipende poi dall'aposfera che si sta ora in quel momento se io sono molto emotivo ci sono state delle volte in cui le cose nel cervello si si innescavano nel modo giusto e andava tutto liscio ci sono state le volte in cui si innescavano nel modo sbagliato perché magari mi prendeva male qualcosa e l'esibizione non andava bene sono molto emotivo quindi non riesco a programmare prima quello che deve accadere sul palco assolutamente poi sarà una grande cassa di risonanza anche gli stati d'animo le emozioni si amplificano in un senso o nell'altro parliamo del brano sei tu e il titolo del pezzo che hai scelto di presentare io l'ho definito uno di quei brani che ciascuno di noi vorrebbe sentire dedicato da chi reputa speciale a prescindere stiamo parlando di un rapporto d'amore o di amicizia cosa ti ha ispirato questa questa dedica beh questa canzone è nata in un momento in cui in pratica ispirazione non c'era perché ho sempre trovato ispirazione dal live ho fatto tanti concerti ogni anno mi sono mai fermato e quindi nel momento in cui scrivevo mi immaginavo sempre come avrebbe reagito la gente le persone sotto al palco a quel determinato inciso a quel determinato riff di chitarra no e quindi ogni volta che ho scritto un disco l'ho scritto sempre in predisposizione del live stavolta il live comunque purtroppo è stato bloccato per tutto quello che sappiamo e ho dovuto trovare ispirazione in altre sedi e ho iniziato a scrivere questa sceneggiatura la sceneggiatura del mio primo film da regista e accompagnato da alessio de leonardis che è già stato insomma aiuto regista di tanti mostri saghi del cinema dai taviani a marco risi a gabbiele manetti e lì mi sono sbloccato fortunatamente ecco tante canzoni le ho trovate proprio all'interno di questa sceneggiatura compresa sei tu che è dedicata poi ad così complicati mi ha salvato da dalla parte più brutta di me è la prima volta che scrivo una una dedica d'amore così diretta e profonda perché ho sempre avuto ora di farmi leggere dentro intendevo sempre a difendermi quando scrivo le mie canzoni d'amore non erano mai nude e crude erano sempre amori comunque che dentro hanno un po di tormento amori finiti o finiti addirittura male invece stavolta una canzone d'amore positiva una canzone d'amore che qui tendo a gratificare questa persona persona che mi ha salvato insomma da da questi due anni così particolari la canzone film sono molto legate tra di loro io non ho ancora avuto il piacere di vedere il film ma ho visto la canzone ho visto anche il videoclip devo dire che è una dedica come dicevamo che diventa anche automaticamente un inventario dei tuoi errori in qualche modo con quella punta di riscatto che io noto in tutte le tue canzoni nella maggior parte o meglio delle tue canzoni in tutti i tuoi dischi comunque che con te distinguono in qualche modo la tua poetica ti chiedo dal punto di vista emozionale io dividerei il tuo il tuo percorso in due in due parti in qualche modo se dobbiamo fare due macro categorie le canzoni d'amore c'è dedicato l'ultimo disco l'era interpretata in maniera molto intima e poi i temi sociali quello che mi interessa capire perché a me piacciono entrambe le salse ovviamente quello che mi interessa capire da te è è più difficile te la banalizzo come domanda tirar fuori se stesso come fatto con un pezzo come questo non è stato facile oppure parlare a livello sociale di tematiche delle tematiche più disparate come hai fatto tu tante volte per me è molto più difficile parlare d'amore l'amore rispetto a al disagio espresso nelle nelle tematiche sociali ha una profondità diversa è che è la mia profondità quando racconto per esempio un un fatto un argomento un'epoca cerco di raccontare un'epoca dove ci sono diverse cose che magari ancora non digerisco che mi fanno rabbia cerco di esorcizzarle a attraverso le canzoni attraverso la musica allora lì divento anche la voce non solo non soltanto di fabrizio mora di tanti ragazzi che comunque ascoltano la musica no e esprimo un un pensiero comune e invece quando racconto insomma la mia intimità come dicevo prima è molto più difficile aprirmi perché lì sono da solo solo parlo di me a tante persone e questa cosa mi rende nudo mi rende molto più fragile no però ho imparato poi col tempo adesso 46 anni a farci pace con questo sentimento no ad aprirmi cioè ad accettare anche i limiti della mia personalità che fino a un po di tempo fa non riuscivo a dire a una persona ti amo ti voglio bene perché dovevo sempre dimostrare di essere più forte invincibile quello faceva parte delle mie insicurezze una volta metabolizzato questo questo mostro di inferiorità poi alla fine e di fragilità insicurezza sono diventato più forte complice anche il percorso che ho fatto in questi due anni in cui c'è stato questo momento così duro per tutti che mi ha fatto salire a galla insomma l'ante verità anche la verità che ho descritto in sei tu cioè quella di essere innamorato di una persona innamorato della vita innamorato di miei figli insomma l'amore credo che sia l'unica l'unica energia da prendere in considerazione quando l'angoscia ti viene a bussare la mattina presto e ti avverte che stai iniziando un giorno difficile e una verità che può sembrare scontata e banale ma è l'unica che ho in tasca in questo momento sono d'accordo con te anche perché tu parlavi di questi due anni difficili sicuramente tu hai avuto modo di fare anche una sorta di inventario della tua carriera perché canzoni d'amore nascoste è qualcosa in più di una raccolta è una selezione in qualche modo di una parte del tuo repertorio così come hai avuto modo anche di raccontarti dal vivo con il tour della scorsa estate io ti ho visto la villa Bertelli di Forte dei Marmi lì non era solo concerto era proprio un racconto dove raccontavi anche aneddoti delle varie canzoni quindi ti chiedo quanto è servito per arrivare al tuo nuovo EP che esce venerdì questo venerdì la mia voce quanto è servito quel tour e quel lavoro anche in studio di catalogo se vogliamo di di no catalogo brutta di selezione di alcuni brani rivisitarli eh per arrivare a concepire questo album è stato fondamentale è stato fondamentale perché per esempio era la prima volta che io mi esibivo in totalmente in quella vesta così in quella vesta così spoglio no c'era un pianoforte una chitarra acustica e basta e questa cosa inizialmente mi faceva paura perché sono sempre stato abituato comunque ad avere delle sonorità più prepotenti sul palco no e queste sonorità più prepotenti mi hanno sempre fatto sentire protetto dalla mia band protetto dalle luci protetto la scenografia lì andavo proprio io a raccontare la mia vita e mi ha reso molto più forte e anche dal punto di vista per esempio prettamente tecnico produttivo ho scoperto che poi non è così male cioè esprimere una canzone eh con quel tipo di corredo cioè con quattro strumenti e cercando di far trasparire eh più il testo che l'arrangiamento e questo è un è una visione di produzione che ho adottato per scegliere le canzoni di quella raccolta e per portare in giro quel tour e si è riflesso in questo album perché al di là della mia voce e di continuare a cercare che sono gli unici due brani che hanno delle superità un po' più potenti gli altri sono tutti brani eh intimi ed acustici è una dimensione che è cominciato a appartenermi da 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 un po' di tempo da poco tempo se vogliamo ma in cui mi rispecchio veramente tanto per concludere Fabrizio tu gli saremo nei praticanti eh questo è il tuo settimo festival eh dal duemila d'oggi eh parliamo più di vent'anni di vita più oltre che di musica eh ti chiederei come hai visto cambiare il festival e quanto è importante per te questo palco perché tu ci sei tornato ci torni da campione in carica l'hai vinto due volte quindi questo va sottolineato ed è anche sinonimo del fatto che saremo è molto cambiato in questi vent'anni soprattutto negli ultimi tempi tornano grandi nomi e nomi che magari da un lato come una volta magari non ne hanno proprio nemmeno bisogno di un palco come questo perché perché questa è una cosa a cui ho fatto caso quando ho parlato la prima volta che ho incontrato Amadeus mi piace molto il cast quest'anno nonostante sia più competitivo è più difficile no per ogni singolo però è bello che ci siano artisti che comunque abbiano lasciato da parte lo scetticismo no che c'è stato in questi anni nei confronti di Sanremo da parte di di una certa di tipologia di artisti mi è piaciuto molto quello che ha detto Morandi ho 40 anni 50 anni non so quanti nati carriera dice se vado in gara non vado a compromettere sicuramente tutte le conferme che era che la vita e la carriera mi hanno dato e si è rimesso in gioco questa cosa mi è piaciuto molto perché ha fatto pensare ma anche altri artisti cioè che hanno aderito quest'anno a questa diciamo questa manifestazione così importante e non avendone bisogno come detto tu tra virgolette perché in realtà di Sanremo ci sarebbe sempre bisogno e mi è piaciuto perché mi ha ricordato i festival dell'inizio degli anni 90 quando li seguivo da adolescente e quando vedevo ammiravo le grandi star della musica italiana quando sognavo di diventare come come loro e io sono sicuro stavolta lo sento che questo festival sta per segnare una rinascita non soltanto musicale ma anche proprio culturale no e soprattutto credo che possa diventare una linea di chiusura vera finalmente a questo periodo di merda che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto spero che da qui si possa ripartire e io per lo meno lo sto vivendo in questo modo il lavoro più grande che faccio a me stesso in primis e poi a tutti i miei colleghi che sono qui e anche a quelli che non ci sono e di poter tornare a suonare con tutta la la bellezza e la normalità che abbiamo messo tra parentesi in questi due anni ringrazio Fabrizio Moro per essere stato con noi e ti faccio un grazie al lupo buona grazie a tutti